Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft, io sono Maullo941 e siamo tornati con un nuovo episodio, episodio numero 26 signori, me li sto segnando quindi per ora me li ricordo sempre. Allora, signori, intanto grazie per il like, per il supporto, per i suggerimenti e per tutto quello che è dato alla serie, vi ringrazio sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale per farmi un gran piacere perché ho l'obiettivo di raggiungere quantomeno i 2000 iscritti e spero di riuscire ad arrivarci il prima possibile. Cosa facciamo in questo video di oggi signori? Allora, faremo due cose, ovvero faremo il duplicatore di rotaie perché ci serve per una struttura successiva in futuro che faremo e la farm di carote che ovviamente ci serve per il discorso delle carote d'oro che saranno molto importanti. Allora, le carote le metteremo qui in attesa che magari riusciremo a trovare un giorno le patate ma poi ci organizzeremo successivamente. Come la facciamo? Lasciamo lo spazzetto di qua anche perché qui abbiamo tre bocchi precisi, uno, due e tre. La faremo in maniera diversa rispetto alla farm di grano, la faremo molto più semplice, faremo semplicemente la striscia, faremo allora uno, due, tre e quattro. Sì, qua l'acqua dovrebbe arrivarci, qua vabbè facciamo quattro, cinque, sei e sette. Arriviamo qui, preciso dove eravamo arrivati con l'altra farm, perfetto. Poi chiudiamo, facciamo uno, due, tre, quattro, questo lo lasciamo libero. Ho sbagliato, ho sbagliato i calcoli signori, ho sbagliato i calcoli, non abbiamo nemmeno iniziato, ho già sbagliato i calcoli comunque. Allora, dobbiamo fare tutto questo qua così, perfetto, in maniera precisa, perfetto. Dopodiché dobbiamo fare uno, due, tre, quattro, quindi questo dobbiamo levarlo, giusto, così ne abbiamo tre e tre, perfetto. Mettiamo un attimino il secchiello d'acqua qui, terra in mano, buttiamoci di qua sotto, se ci riesco, perfetto, perfetto. Cerchiamo di non morirci male, ok, abbiamo messo il blocchetto che ci interessava, perfetto, recuperiamo l'acqua, ok. Mettiamo la terra lì, quello poi lo elimineremo e mettiamo l'acqua signori, ok. Diciamo che le nostre carote sono praticamente sistemate, la roba direte carote, ma tu hai una sola carota, intanto abbiamo una zappa che è tanta roba. Andiamo a recuperare l'unica carota che abbiamo qui nel nostro farm di mostri che ogni tanto funziona, ogni tanto no, dipende da come gli prende la giornata. Prendiamo un po' di ossa, facciamo un po' di bomil, signori, che dovevamo anche avere da qualche altra parte nella casa, però, dettagli, 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 superfluo. Bomil serve sempre così com'è. Andiamo a zappare questo punto preciso, mettiamo la nostra bellissima carota, andiamo di bomil, perfetto, e già abbiamo più carote. Allora, quando ne abbiamo tre, facciamo una, due e tre, carota, 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 bomil, bomil, bomil. Allora signori, non voglio ovviamente riempirmi tutto quanto il terreno, perché sennò non avrebbe senso. No, questa torcia qui no, grazie. Poi piano piano, tre, ne abbiamo undici. Allora, iniziamo a piazzarle, dai così, e siamo a altre tre, me le metti qua, uno, due e tre. Perfetto, io direi che possiamo anche lasciare andare così. Sì, dai, così poi piano piano cresce e qui prende un altro colore e diventa molto carino e coccoloso. Qua queste torce poi le sostituiremo tutte con delle lanterne, signori. Piano piano, piano piano faremo tutto. La farm di rotaio dove la facciamo? La farm di rotaio direi di farla qui. Oppure potremmo farla qui. Tanto non ho qua molto spazio, la facciamo che rivolta verso l'interno. Mucchetta, tu un giorno avrai anche il tuo nome. Sto registrando anche questo episodio in seguito, signori. Quindi, se mi avete suggerito il nome, io vi ringrazio e vi chiedo di continuare a suggerirmi nomi per la nostra muccozza. Allora, utilizziamo questo legno di qua. Ne abbiamo 53, casomai poi lo utilizziamo. Sistemiamo l'altro. Allora, sì, la facciamo da questa parte di qua, la farm di rotaie. Allora, allarghiamo un attimo qua il terreno. Non è molto complicato da fare. Non è molto complicato da fare. Sicuramente molti di voi avranno già visto e già sanno di cosa stiamo parlando. Tra l'altro qui noi continuiamo il disegno di qua. Ma sì, allarghiamoci completamente così. Sì, perfetto. Nello scorso video, quello in cui eravamo in miniera, signori, io ho raccolto un sacco di rame. Perché mi avete suggerito, mi è stato suggerito anche di fare una fontana. E la cosa non mi dispiace più di tanto. Mi piace l'idea di una fontana magari vicina all'albero della vita. Che ci può stare, può stare molto carina. Anzi, più che altro, vediamo se posso fare una cosa vicina all'albero della vita. Partiamo con un progetto e ne facciamo un altro. C'è delle fence, sì. E le staccionate. Riesco a metterle a giro, le staccionate. Sì, dai. Così mettiamo in sicurezza l'albero della vita e non rischiamo di cadere di sotto noi. Va bene, dovremo fare qualche altra fence per chiudere questa zona di qua. E da qua potremo fare un sentiero che ci porta verso la fontana. Non è male come cosa mi piace. Magari cambiamo legno e si può fare, si può fare. Ora, mi basta questo spazio? Penso di sì, però nel dubbio altri tre blocchi io li riempirei così nel dubbio. Allora, forse ho capito la farm di mosti perché non possiamo stare a una certa distanza. Il problema è che non ho capito ancora a che distanza dobbiamo stare. Perché certe volte sono a casa e loro compaiono. Altre volte sono totalmente dall'altro lato e compaiono lo stesso. Oppure sono troppo vicino e non compaiono proprio. Quindi non ho ancora ben capito qual è la giusta distanza per farla funzionare. Però diciamo che appena andremo a fare poi la farm di scheletri. Che dovrebbe essere, ora non so più da che lato è, se è di là, se è di là, se è di là o se è di là. Però riusciremo a fare anche quella. Quella sarà sicuramente una farm che funziona. Allora, per fare la farm di rotaie, cosa ci serve? Allora, ci servono quattro blocchi di slime. E questo è sicuro. Poi ci serve un pistone appiccicoso. Che non mi ricordo come si fa, se non ricordo... Allora, andiamo per ordine. Andiamo per ordine. Pistone... Magari lo scrivo in italiano. Pistone appiccicoso mi serve un pistone normale e lo slime. Ok. Redstone, ferro e legno. E la pietra. Perfetto. Ok. Mi serve quindi la redstone. Ok. La redstone non ce la dovremmo avere. Perfetto. Anzi, prendiamoci pure qualche blocco perché forse mi servirà qualche blocchetto in più. Allora. Così, così. E questa ce l'abbiamo tutta. Poi mi serve un observer. Un osservatore. Osservatore. Perfetto. Che si fa col quarzo. E la pietra, la redstone. Perfetto. Allora, mi devi dare il quarzo. Dove sta il quarzo? Mi devi dare il quarzo. Allora, ce l'avevo al bizzeffe. Ok. Perfetto. Allora. Allora. Dobbiamo fare un pistone... Pistone normale. E questo lo possiamo fare. Poi dobbiamo fare un pistone appiccicoso. E questo l'abbiamo fatto. Poi mi devi fare un osservatore. Osservatore. Perfetto. E ce l'abbiamo pure, signori. E basta. Prendiamo semplicemente le nostre rotaie che non so dove ho messo di preciso. Ok. Allora. Secondo un'antica leggenda... Aspettate, dobbiamo fare anche i blocchi di slime, però. Così? No, vaffan... Vaffanbala. Ne riesco a fare solo tre. No, non ci posso credere. Ne riesco a fare solo tre. Questo è gravissimo. È gravissimo, signori. È gravissimo. Come riesco a farne solamente tre? Riesco a fare tre blocchi di slime. Ok. Proviamoci lo stesso. Magari siamo fortunati. Magari siamo fortunati, signori. Ci proviamo. Ci proviamo lo stesso. Allora. Aspettate un attimo, aspettate un attimo, aspettate un attimo. Fermi tutti, fermi tutti. Allora. Forse, forse, forse ci riusciamo con due, signori. Forse, forse. Non ne sono propriamente sicuro, però ci possiamo provare. Ci possiamo provare anche se sta accalando la notte, però noi ci proviamo lo stesso. Allora, per evitare che volino troppo lontano, io direi di fare i due pezzi qua così. Quindi diciamo che ci siamo. Ah, è arrivato uno zombie. Mi sono preso di paura. Il pistone così, ok. L'osservatore così. No, non in questa direzione, ma nell'altra. Quindi lo mettiamo così, ok. Gli slime li mettiamo qui. Ecco, c'è un dita, signori. Speriamo che funzioni, se no è un fail terribile. Gli slime li mettiamo qui. Perfetto. Qua mettiamo altri due di... Così e così. Sopra dobbiamo mettere la redstone. Qui sopra dobbiamo mettere la redstone. Qui dobbiamo mettere le nostre rotaie. Speriamo che funzioni, se no... Ok. Dopodiché qua dovremmo mettere semplicemente una leva. Funzionerà? Non funzionerà? Non lo sappiamo fin quando non proveremo. Se esplode tutto, sappiate che è stato un piacere. Riesco a farla così? Sì, ok. La leva la dovremmo mettere qui. E lui in teoria dovrebbe iniziare a spararmi. Sì, mi spara le rotaie, signori. La farm funziona, la farm funziona, Daniele. Ti fermi? Sì, si è fermato, signori. La farm di rotaie funziona. Attenzione, ci siamo riusciti. Siamo riusciti a costruire una farm di rotaie funzionante. Sono arrivati fino a qua sotto le rotaie. Ottimo. Buono, signori. Non è una cosa bellissima, però ci siamo riusciti. Però abbiamo la nostra farm di rotaie. Ti piace, mucca? Abbiamo la farm di rotaie. Bene. Signori, allora, detto questo, io per questo video mi fermo qui. Nel prossimo continueremo a fare delle costruzioni, ovvero sistemeremo questa zona di qua. Questa zona di qua. Voglio provare a mettere pure delle catene su quei rami. Vediamo se riusciamo a illuminare un pochino l'albero di di sopra. E poi, sì, vediamo un attimino di sistemare questa zona di qua. Magari cambiamo il legno. Mettiamo il legno scuro. Facciamo questa andatura fino a là. E poi andiamo a costruire la nostra bellissima fontanona che ci sta di lusso. Che ci sta di lusso. Va bene, signori. Non è bellissima questa farm messa lì in mezzo. Ma te lo inventeremo qualcosa anche per renderla più carina. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i reggimenti e per il supporto. Aspettate che mi metto in posizione così si vede bene anche la farm. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao.